Musica Ok ci siamo, buonasera Benvenuti, questa è Tube Station Adesso vi racconto un po' di cosa si tratta Allora, noi siamo i Valid Rison Facciamo musica a ska e hardcore Veniamo da Roma, zona prevalentemente boccea E il nostro genere è un misto proprio tra ska e hardcore Se suonare sotto la metro insomma è un'emozione abbastanza unica Anche perché il nostro genere previene dal punk Quindi il punk come si sa sotto la metro è assolutamente spettacolare Noi siamo i Rocky Horror Fucking Shit Veniamo da Foggia, facciamo crossover La band è nata nel 2002 ma lavora attivamente dal 2005 E ci ispiriamo al rap e al rock alternativo dei primi anni 90 Si dà il caso che ho avuto una bambina che si chiama Joy E quindi le ho dedicata con tutta la mia moda Mi sono un attimo immedesimata Si, poteva partire un applauso su questa cosa direi che è giusto Chi ha figli capisce, chi non li ha capirà quando li avrà Allora, invece il secondo pezzo I'm not alone Dunque questo pezzo più che altro è un messaggio Che vorrei lanciare a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi Che hanno avuto delusioni d'amore Mai rassegnarsi se l'amore sembra finito Perché chi lo sa, un domani potrebbe ricominciare Tempo, Zulemani Allora, invece Allora, invece Allora, invece Allora, invece